squilla squilla hotel tutto tutto buonasera sono letta se letta del circo pivetta quattro lupi la simietta senta una cortesia posso senta noi siamo appena giunti in città col circo e volevo sapere se era possibile per notare una camera sanotte circo pivetta c'è posto siamo io mia moglie leone è buono ci sarebbe disponibilità e leone è buono c'è posto grazie è buono dai nicoletta pronto 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 per il leone fa anche prima colazione scusi ma perché ride scusi non è professionale mi scusi lei non è professionale e non è grandissimo è buono sarà un metro e mezzo quindi c'è posto ne bastava una camera doppia per due ecco il leone non so ce l'ha lettino aggiuntivo ce l'ha il letto aggiuntivo e dove devi dormire per terra stai buono come va bene niente andrò da un'altra parte la ringrazio buonasera arrivederci